Ah, caro vecchio uomo ragno, l'amichevole Spider-Man di quartiere, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Tutto ciò che riguarda questo simpatico lanciaragnatele è sempre stato un continuo di alti e bassi. Così come ci sono stati grandi film, che ancora oggi ricordo con una punta di pura nostalgia, ve ne sono stati altri che rammento quasi vergognosamente. Abbiamo avuto titoli videoludici, indubbiamente interessanti, a cui se ne sono affiancati alcuni caduti nella mediocrità più totale. Tra i più bei ricordi che ho dell'uomo ragno, però, non poteva certo mancare lui. Spider-Man 2. Il titolo che sulla mia PlayStation 2 mi consacrò alle meraviglie supereroistiche in calza maglia, un capolavoro da giocare ed esplorare in lungo e largo che mi terrò per sempre nel cuore. Il problema è che dopo quel titolo targato 2004, ben 14 anni fa, nessun altro Spider-Man è riuscito a far di meglio. Sia chiaro, giochi interessanti e di qualità ne sono ovviamente usciti, ma nessuno si è mai mostrato in grado di sfondare. Nessuno è mai riuscito a rubare il trono a quello Spider-Man 2 targato Treyarch. Sì esatto ragazzi, Spider-Man 2, World at War. Un leggero cambio di stile, ma va bene. Vista la situazione capirete quindi che l'annuncio di un nuovo Spider-Man, in esclusiva su PlayStation 4 durante l'E3 2016, rappresentò un momento decisamente importante nell'industria videoludica per due specifiche motivazioni. In primis per la software house che avrebbe lavorato al progetto, gli Insomniac Games. Sviluppatori meritevoli di aver portato alla luce brand come Spyro, Ratchet & Clank e Resistance, senza poi ovviamente dimenticare Sunset Overdrive, sempre sia lodato. Il punto è che stiamo parlando di un team con moltissima esperienza, un team che negli anni ha saputo portare alla luce IP rimaste nei cuori di milioni di giocatori da tutto il mondo, un team che si è quasi distrutto con un singolo gioco, un team che con un titolo dedicato all'uomo ragno avrebbe potuto dare davvero, ma davvero molto. Secondariamente vi è il concetto stesso che stava dietro al titolo, la sua peculiarità, il suo essere un'esclusiva PlayStation 4, e che si sia a fanno o meno di Sony, e in dubbio che un simile nome abbia una certa risonanza in termini di marketing, una produzione a tira portafogli talmente importante che Sony difficilmente avrebbe accettato un lavoro che non fosse in qualche modo entusiasmante. Insomma, i dubbi non mancavano, ma anche le premesse erano assai altisonanti, e personalmente non posso nascondere che tutti i trailer e gli annunci susseguitisi, mese dopo mese, anno dopo anno, sono sempre riusciti a convincermi. Più guardavo questo Spider-Man, o meglio questo Marvel Spider-Man, più cresceva in me il desiderio di acquistarlo, e attenzione, io non sono mai stato un fan sfegatato del lancio a ragnatele, ho visto i film, ho giocato a qualche titolo a lui dedicato, mai letto un suo fumetto. Eppure l'hype cresceva, le meccaniche di gioco sembravano funzionare molto bene, alcune caratteristiche riprese dagli Arkham Batman apparivano ben amalgamate, Spider-Man sembrava un figo da paura, il gioco non era ancora uscito, ed ecco annunciato il primo di... Ah, santi Dio. Arriviamo infine al 7 settembre 2018, esce Marvel Spider-Man, e potevo io forse esimermi dal comprarlo? Ovviamente no. Dopo aver ottenuto la mia copia, bella calda, torno a casa, ficco il disco nella PS4, prendo il manual pad e me la divoro in pochi giorni, giungendo infine ai titoli di coda. Ma quindi... ne è valsa la pena? Beh, voi mi conoscete. Andiamo con ordine, partendo dalla narrativa. Narrativa dalle premesse assai interessanti. Marvel Spider-Man si caratterizza infatti per una storia slegata, sia dai film che dai fumetti. Un'avventura ambientata in una sorta di universo alternativo, in cui il nostro Peter Parker indossa gli abiti dell'uomo ragno da ormai ben 8 anni. Una caratteristica che avrebbe quindi eliminato il rischio di ritrovarsi con la solita storiella in cui abbiamo appena scoperto i nostri poteri e dobbiamo imparare a conviverci. Tanto vale essere secchi e diretti. La storia del gioco mi è piaciuta. Mi è piaciuta non solo perché funziona perfettamente come avventura in sedulo moragno, bensì anche poiché parte del racconto si concentra proprio su Peter, mettendoci nella condizione di comprendere meglio il peso che grava sulle sue spalle e il modo in cui questo peso abbia impattato sulla sua vita. In qualche sporadica occasione ho ascoltato delle voci che non hanno apprezzato la sceneggiatura dell'opera, definendo la non all'altezza dei Batman Arkham, punto di vista con cui personalmente non mi trovo d'accordo per due motivi. In primis, bisogna tener conto del fatto che si parla di due supereroi dal background completamente diverso, spenti da motivazioni differenti e con filosofie di pensiero alquanto contrastanti. I Batman Arkham spingono l'acceleratore su due toni spiccatamente d'arche cupi, mentre Marvel e Spider-Man... diciamo che la tocca piano. Presenta toni più scanzonati anche perché lo stesso Peter è un giovane adulto con la musica nel cuore in un certo qual modo. Fa battutine ogni due per tre, si prende il gioco di chiunque voglia ammazzarlo e a noi piace anche per questo, per questo suo spirito cazzaro. Secondariamente, per quanto non si arrivi mai ai livelli di un Arkham, ho trovato il titolo abbastanza incisivo e significativo. Marvel's Spider-Man racconta una storia d'amicizie tradite, d'amori infranti, di famiglie spezzate e in più di un'occasione mi ha presentato situazioni che sono riuscite a colpirmi lì dove faceva più male. Non voglio fare spoiler e non li farò, ma vi assicuro che tutta la parte finale l'ho adorata. Grande pathos, grande conclusione della storia, un rush d'emozioni e situazioni che mi sono goduto con il cuore in gola. Ma quindi non vi è nulla che ti abbia dato fastidio? Beh no, qualcosa c'è stato, un qualcosa di molto personale, di cui a molti tra voi non fregherà assolutamente nulla, ma che a me ha dato un fastidio incredibile. Mister Negativo. Come vi avevo detto a inizio video, io non ho mai letto alcun fumetto relativo a Spider-Man e conseguentemente non avevo la più pallida idea di chi diavolo fosse questo Mister Negativo. Il problema è che tale villain viene presentato come se anche il giocatore non lo conoscesse. Il reveal di Mister Negativo viene costruito in intere ore di gioco. Oh, chi sarà mai? Oh, chi potrebbe mai fare una cosa del gemma? Porca troia, ragazzi! Me l'ha spoilerato insomma chi è? Si vede letteralmente nei trailer, ma che senso ha? Onestamente, quanto ci sarebbe voluto eliminare la sua presenza da quei due o tre trailer delle tre in cui è stato mostrato per lasciare la suspense, quantomeno per chi, come me, non ha letto i fumetti? E invece no, lo si è voluto far necessariamente vedere. È risultato pratico? Io sono lì che sto giocando, questo tizio ci venne presentato per la prima volta e io... Ah, no, no, cazzo, dai! L'ho trovata una caduta di stile parecchio fastidiosa, più che altro perché la si poteva facilmente evitare. Inoltre, vorrei approfittarne un secondo per parlare dei boss. Esattamente come già visto nei Batman Arkham, durante il gioco entreremo in contatto con tutta una serie di supercriminali che ogni fan della Rampicamori conoscerà sicuramente e chi più chi meno. Il problema dove sorge, quindi? Sorge nel modo in cui gli sviluppatori li hanno posizionati in game. Prendete Arkham Knight per fare un esempio. I ragazzi di Rocksteady hanno creato un'avventura dove tutti gli acerimi nemici dell'uomo più estrello sono perfettamente spalmati nel corso di tutta la partita. Alle volte li si affronta durante le missioni principali, in altri casi attraverso le queste secondarie. Sta di fatto che ogni tot di ore ci si ritrova davanti a un qualche pericoloso volto noto, una situazione che purtroppo non si è presentata in Marvel Spider-Man. Insomniac ha infatti preferito prendere molti dei brutti ceffi che hanno avuto un qualche trascorso con Spider-Man, mettendoli però tutti alla fine, un rush finale che è una vera e propria Royal Rumble. Il problema a questo punto è logico. Se da una parte le battute finali dell'avventura sono un piacere da giocare e da vivere, di contro in tutto quello che vi è prima, a 15 passa ore di gioco, si sente questa carenza di grandi nomi a intervallare l'avventura, tolta una boss fight specifica, che comunque è poco, troppo poco. Chiaro, non è nulla di grave, ma resta una sbavatura che comunque ho sentito. Superato questo troncone del gioco, giungiamo poi al gameplay effettivo. E non posso non cominciare dall'open world. Eh, signori, dopo 14 anni finalmente posso dirlo. Spider-Man 2 è stato sconfitto! Ok, ma... perché? Nelle basi, la mappa di Marvel Spider-Man è identica a un qualsiasi altro pen world. Abbiamo missioni secondarie, incontri casuali, una marea di collezionabili, ste cristoli stazioni di ricerca noiose come la morte, le basi nemiche da dover espugnare, ci sono pure le similtorri da dover sbloccare per poter visionare la ma... Ma grazie, Ubisoft, eh? Grazie, 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 gra... Ma poi, come un fulmine al ciel sereno, arriva lui. Il sistema di movimento. Meraviglioso. Era dai tempi di Spider-Man 2 che non mi divertivo così tanto semplicemente spostandomi per la mappa di gioco. Alle volti mi sono ritrovato a girare per Manhattan senza una reale meta, ma solo per il piacere di muovermi. Insomniac ha svolto un lavoro esemplare, dando forma a un sistema di oscillazione con la ragnatela magnifico, spettacolare, indimenticabile. Si percepisce la velocità, il senso di libertà. Muoversi tra i palazzi è una goduria per gli occhi e per l'uccello. Buttarsi a mezz'aria, lanciare una ragnatela sfiorando l'asfalto, correre su un palazzo, spiccare un altro balzo, dondolarsi tra i vicoli più stretti passando poi tra le travi di ferro di un cartellone pubblicitario. La sensazione che si prova, pedda la mano e fantastica. E non è un caso che con Marvel e Spider-Man non abbiamo mai sentito il bisogno di utilizzare il viaggio rapido per superare le classiche fasi morte propri di qualsiasi sandbox. Tra l'altro, Insomniac va conferito il merito di essere riuscita a farci sentire dei ass della ragnatela anche quando in realtà... non lo siamo. In game, infatti, Spider-Man non farà altro che evitare di un soffio qualsiasi ostacolo dovesse parare gli sinnansi. Se ci muoveremo troppo in basso, mancheremo le auto di pochi centimetri. Nel caso in cui ci ritrovassimo a stretto contatto con i tetti degli edifici, li supereremo sempre per il rotto della cuffia. E ammettiamolo. Tutto ciò ci farà sentire dei gran fighi. Ci darà l'impressione di aver sempre il pieno controllo sulla situazione, quando in realtà le ragnatele che lanceremo per spostarci cambiano automaticamente lunghezza proprio per dare al giocatore questa sensazione di totale padronanza dell'intero sistema. E' una piccolezza che però riesce a conferire ancor più spessore all'esperienza generale. Mi dispiace ragazzi, ma non siamo noi a essere bravi, sono gli sviluppatori ad essere furbi. E invece, cosa ne pensi del combat system? Non ti ha un po' stancato questo andare continuamente a riprendere dai Batman Arkham? Personalmente no. E anzi, il free flow o combat system, come viene comunemente chiamato, ritengo che si sposi alla perfezione con la struttura di gioco, anche grazie agli importanti cambiamenti che sono stati apportati dal team. Diversamente da Batman, eroe dai movimenti pesanti e molto duri, lì dove senti sulla tua stessa pelle ogni singolo pugno che tiri in bocca i nemici, Spider-Man è molto più agile e veloce. Si attacca, si schiva, si afferra un nemico e lo si lancia via. Le combinazioni di mosse sono parecchie e quando si acquista la giusta abilità col pad è possibile assistere a lunghe combo di scazzottati senza fine che non sono solo uno spettacolo da vedere, bensì anche un piacere da giocare. Marvel Spider-Man emette perfettamente in mostra lo stile di combattimento, adrenalinico e dinamico, che da sempre contraddistingue l'omoragno. L'interazione ambientale è parecchio elevata e in numerose occasioni è possibile optare per un approccio stealth, che proprio grazie all'agilità del nostro eroe in calza maglia funziona divinamente. Giocare stealth mi ha proprio divertito. Tra l'altro, le basi nemiche da dover attaccare ed espugnare mi hanno fatto impazzire. Non perché siano un qualcosa di rivoluzionario, tutt'altro, bensì perché in questi intermezzi ci si ritrova ad affrontare ondate su ondate di avversari, decine di nemici che ti attaccano tutti insieme, chi ha lo scudo, chi ha armi elettrificate, chi possiede armi da fuoco. In questi intermezzi il combat system esplode, cazzarola. Si passano interi minuti semplicemente a combattere tirando calce e pugna a destra, manca fantastico. Non manca poi neanche tutto un sistema livelli con cui guadagnare punti esperienza e quindi nuove abilità, le quali riescono ad arricchire ulteriormente il gameplay rendendo le scazzottate o il semplice spostarsi in giro per la mappa ancora più divertenti di quanto già non siano. Eppure, non finisce qui, signori miei. In game potrete sbloccare e indossare una marea di costumi diversi ripresi direttamente dai film, dai giochi e dai fumetti dell'uomo ragno. Costumi che tra l'altro hanno tutte le proprie abilità speciali uniche e a cui poi si vanno ad affiancare anche diversi gadget utilizzabili in combattimento. Tra l'altro, tutti questi simpatici giocatori di morte possono essere potenziati utilizzando oggettoni ottenibili raccogliendo collezionabili, completando sfide nel corso di qualche missione o affrontando specifiche queste. Un'idea che ho assai apprezzato proprio perché in voi ancora di più a esplorare e a giocare. Ora però, momento serietà. Guardate attentamente questi titoli, osservateli, scrutateli, avvertite nel nero potere. Caspita, è nero forte. Ebbene, ognuno di questi giochi, nonostante le proprie peculiarità, presenta una caratteristica comune a tutti gli altri. Sapresti dire qual è? Beh, ma ovviamente parliamo delle missioni secondarie che sono pura feccia. E per Marvel's Spider-Man invece come è andata? Eeeh, insomma, diciamo che le missioni secondarie non brillano in particolar modo, ma si fanno completare con piacere e più che altro per via della solidità che caratterizza la struttura di gioco in sé. Trovo comunque inaccettabile la mancanza dello Spider-Pizza, il pizza delivery più veloce di Manhattan. Questa è stata una caduta di stile insomniac, dove la mia canzone italiana preferita regia? Ah, molto meglio. In qualche occasione il gioco tenta anche di variegare la formula offrendo alcuni particolari cambiamenti. I piccoli puzzle che di tanto in tanto si possono affrontare nei panni di Peter Parker non mi sono apparsi poi così pesanti. Non aggiungono nulla ma non mi hanno neanche stancato. Mentre le missioni stealth in cui si devono controllare Mary Jane e Morales se le ho trovate davvero noiose e soprattutto inutili. Inutili poiché la componente stealth present in game quando si impersona Spider-Man funziona già perfettamente. Ci si ritrova letteralmente a passare da questo a questo che altro aggiungere? Il confronto è già così a dir poco impietoso. Merita poi una menzione tutta sua il comparto grafico con degli alti molto alti e qualche basso. In primis Manhattan è un vero spettacolo una meraviglia da esplorare che quando ci si ferma ad osservarla su un qualche grattacielo sa regalare degli scorci incredibili. Quando si corre giro tirando ragnatele e si osservano le strade che pullurano di macchine e persone sembra davvero di starsi movendo in una città viva. Il sogno però viene un po' smorzato dall'effettiva realizzazione degli NPC dei pedoni. Ovviamente Marvel's Spider-Man è un gioco in cui l'idea di camminare normalmente su marciapiede non è stata neanche pervenuta dal team il quale ha quindi giustamente investito molte meno risorse nei confronti del mondo di gioco osservabile a terra lì dove i cittadini di New York si muovono in maniera un po' legnosetta si differenziano poco tra loro e sembrano non avere una reale meta da dover raggiungere. ovvio è una piccolezza un qualcosa che si nota giusto due o tre volte nel corso di tutta l'avventura ma il resto è un qualcosa che stona rispetto alla grande attenzione riposta nei confronti della creazione del mondo di gioco. Manhattan è ricostruita nei minimi dettagli e ho apprezzato davvero molto la presenza di tutti gli edifici propri della Marvel e degli Avengers quelle simpatiche chicche che per chi segue la serie cinematografica fanno sempre piacere. Una piccola nota di merito anche per ciò che concerne il social network di Spider-Man Praticamente in game è presente una sorta di pagina da social network stile Twitter che viene gestita direttamente da Spider-Man quella è la pagina ufficiale della Rampicamuri di New York ed il bello è che ogni nostra azione compiuta durante la partita verrà riportata da un qualche cittadino new yorkese su tale social magari abbiamo sventato una rapina e qualcuno scriverà di essere stato appena salvato da Spider-Man cambiando costume potrebbero venirsi a creare veri e propri dibattiti su quanto stessimo meglio o peggio prima c'è gente che parla dei cavoli suoi gente che idolatra Spider-Man gente che lo detesta è un dettaglio minuscolo ma conferisce all'intero mondo di gioco così tanta vita che non posso far altro che lodare il team per l'inserimento di una simile idea così come ho apprezzato le piccole interazioni che si possono compiere con i passanti che potranno incontrarci mentre ci sposteremo di zona in zona dopo tutto alla fin fine più interazioni ci sono meglio è 10 lodi secco invece per le animazioni di Spider-Man per la sua modellazione e per la modellazione di tutti i personaggi più importanti ognuno dei quali è stato realizzato con grando vizio di particolari in tal senso lavoro davvero impeccabile ma quindi mi scusi Freccia prego mi dica pure questo Marvel Spider-Man lo definirebbe un capolavoro? sicuramente no i problemi non sono mancati e alcune idee non mi hanno fatto impazzire anzi tutt'altro ma resta il fatto che Marvel Spider-Man è un bel gioco un gran bel gioco un titolo che consiglierei non solo a qualsiasi fan dell'uomo ragno ma anche a qualunque amante dei supereroi in generale Insomniac non solo ha realizzato quello che personalmente ritengo il miglior titolo dedicato all'arrampicamuri bensì ha dato forma anche a un'importantissima base per il futuro perché sì ragazzi lo sappiamo tutti questa è una vacca bella grassa che verrà monta per parecchio almeno una trilogia la darei per scontata e da un secondo episodio ci sono certi antagonisti che voglio vedere capite Insomniac? eh? nei prossimi anni vedremo sicuramente un Marvel Spider-Man 2 anche perché ci sono più cliffhanger in questo gioco che in un vero film della Marvel e quello che mi aspetto è un titolo migliorato e ampliato limato negli aspetti che non funzionano in maniera ottimale più bilanciato nella presentazione dei boss togliete le fasi in cui si devono impersonare altri personaggi o al massimo metteteli una volta giusto per far presenza magari impreziosite un po' anche le missioni secondarie e a quel punto avremo una vera perla da non dover assolutamente lasciarsi perdere al momento abbiamo un gran bel gioco capace di offrire un'esperienza divertente e appassionante un primo ottimo passo per insomniac con un brand che in futuro potrebbe regalare ancor più emozioni solo il tempo ci dirà se il team saprà sfruttare davvero un nome tanto importante ma quantomeno una sicurezza ce l'abbiamo dopo anni generazioni decenni di merda finalmente anche l'universo supereroistico sta trovando la sua strada ora però superman eh eh signori dopo 14 anni finalmente posso dirlo ok buono a sapersi scusi